Seconda parte del nostro TG Mattina, di nuovo ben ritrovati. La soluzione di Carolina Girasole nel processo insula, ma anche la importante retata antidroga che si è consumata all'alba di ieri a Cosenza e ancora le commissioni tra sanità e politica. Sono questi gli argomenti principali all'interno dei quotidiani regionali oggi in edicola, però prima di tutti gli approfondimenti andiamo a scoprire chi è il santo del giorno. Oggi 23 settembre si venera a San Pio da Pietralcina, memoria di San Pio da Pietralcina, Francesco Forgione, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Capuccini, che nel convento di San Giovanni Rotondo in Puglia, si impegnò molto nella direzione spirituale dei fedeli e nella riconciliazione dei penitenti ed ebbe tanta provvidente cura verso i bisognosi e i poveri, da concludere in questo giorno il suo pellegrinaggio terreno pienamente configurato a Cristo Crucifisso. E nel giorno dedicato a San Pio il garantista racconta il calvario di una innocente, si tratta di Carolina Zgirasole, la sentenza dopo due anni di veleni accuse crolla l'intero impianto accusatorio nei confronti dell'ex sindaco di Isola Caporizzuto. Questo processo non si sarebbe mai dovuto celebrare dopo il massacro l'assoluzione, il pezzo è di Simona Musco e a piedi pagina le dichiarazioni hanno preferito cavalcare la notizia che faceva scalpore. E ancora su questa vicenda tutti gli interrogativi di una strana inchiesta troppo piena di ombre, intercettazioni trascritte nel modo sbagliato, micro spie e qualche leggerezza hanno portato a scrivere una brutta storia giudiziaria dove a pagare è stata una innocente. Poi l'arresto e la gogna mediatica così uccidono la democrazia, il pezzo affirma di Romano Pitero. Lo dicevamo in premessa, ieri è stata la giornata di un'importante retata che è stata coordinata congiuntamente dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e dalla procura di Cosenza, condotta operativamente dai poliziotti della squadra mobile Bruzia, ha consentito di disarticolare un'organizzazione dedica allo spaccio di sostanze stupefacenti. Operazione Job Center, l'ufficio di collegamento degli zingari Cosentini, vizieri della polizia che ha portato dietro alle sbarre 14 persone. Il clan arruolava i pusher a cui garantiva uno stipendio mensile di 400 euro. Il procuratore ha giunto di Catanzaro, Luberto. Questa indagine chiude il cerchio. Quote rosa, le donne hanno giocato un ruolo fondamentale, prendevano e inviavano ordini all'esterno in azione. Ieri 120 agenti coordinati dalla procura e dalla DDA di Catanzaro. E noi abbiamo raccontato con dovizia di particolari questa vicenda grazie al servizio realizzato da Rossana Muraca. L'ombra del clan abruzzese sullo spaccio di droga nel centro storico Bruzio è ciò che emerge dalle carte che hanno condotto all'operazione antidroga Job Center scattata all'alba a Cosenza e che ha portato all'arresto di 14 persone, 11 uomini e 3 donne. L'ultimo a finire in manette, il 26enne Amos Zicaro, è stato arrestato nella capitale dopo la soffiata degli stessi componenti del clan che lo ritenevano scomodo alla loro rete di traffico. Dopo un anno di indagini avviate dalla procura di Cosenza in cui sono state utilizzate intercettazioni telefonico-ambientali e testimonianze di clienti dello spaccio, il predominio del clan è stato sventato grazie al contributo di 120 uomini della polizia. L'organizzazione verticistica degli abruzzese, secondo quanto confermano le indagini, deteneva non solo il traffico illecito e capillare di sostanze stupefacenti nella città vecchia di Cosenza, ma era anche in possesso di armi. Ed è questa un'operazione che si inserisce nel solco di una serie di iniziative e di indagini condotte congiuntamente dalla procura antimafia di Catanzaro e dalla procura ordinaria di Cosenza che ha consentito di mettere insieme un po' i traffici di tutta la provincia cosentina. Si parte dall'operazione Gentleman che colpì i centri della Sibaritide e la rete di spaccio che avevano il monopolio in questo anfratto della nostra regione fino ad arrivare appunto all'operazione Job Center consumata ieri. Ecco il commento dei magistrati della DDA di Catanzaro. Continuità tra le operazioni contro il traffico di droga tra Cassano all'Oionio e Cosenza. Gentleman e Job Center sono facce della stessa medaglia che hanno portato all'arresto da febbraio ad oggi di 47 persone, tra rifornitori e pusher, che procuravano partite di droga non solo all'Interland cosentino ma anche ad altre piazze italiane. L'azione di contrasto della distrittuale è forte e nell'ultimo periodo le ordinanze delle quali avete avuto conto dimostrano una pacificazione all'interno dei clan tradizionali e una certa supremazia della coscaria abruzzese. Cocaina, marijuana e roina sono solo alcune delle sostanze stupefacenti che i pusher, secondo un'organizzazione capillare molto pericolosa, spacciavano nelle vie del centro storico di Cosenza. Un'organizzazione ben strutturata, una cassa comune dove venivano versati i proventi dello spaccio, un'organizzazione che faceva riferimento per la distribuzione dei ruoli e il collochamento dello stupefacente ai vertici, cioè quindi al Bruzzese Celestino e ai soggetti che gli erano accanto come Paura Marco. E' un'organizzazione che addirittura in alcuni dei suoi esponenti non esita a soffiare il nome di un soggetto che stava acquistando troppa importanza all'interno dell'organizzazione. E noi torniamo alla lettura del garantista perché c'è ancora spazio per vicende di carattere giudiziario, il boss Costa uccise Simari, per lui la Cassazione conferma l'ergastolo. E ancora colpisce una prostituta, questa è crona che fugge bloccato a sala Consilina, poi la denuncia, sequestrati 72 kg di fuochi di artificio artigianale pericolosi a merito portosalvo. Odissea sul rotaglio, una famiglia russa si perde sul treno, riuniti a Scalea dopo i soccorsi. E ancora uccide a coltellate l'amante della moglie, due indiani, uno la vittima, l'altro l'assassino che viene subito arrestato dai carabinieri, parliamo è una vicenda di cronaca che viene da Condofuri, l'assassino dopo essere stato fermato ha subito confessato le proprie responsabilità, poi se vieni da Cutro sei un mafioso, la denuncia del Presidente dell'Associazione dei Calabresi a Reggio Emilia sono perseguitati. E poi il boss di Vibomarina Tripoti dovrà farsi il carcere duro, accolta la richiesta da parte del Viminale avanzata dal sostituto procuratore antimafia di Catanzaro, Pierpaolo Bruni. E poi le vicende che legano sanità, politica e editoria, dall'olio al bisturi, l'arrampicata dei greco, così la famiglia del Cosentino ha creato il suo imperio economico che ora difende attaccando, intimidendo, governatore e stampa e il governatore che non si lascia intimidire dice ma io difendo gli ospedali pubblici. A piedi pagina gli altri potentati della sanità cosentina e non solo cosentina, implicati nelle vicende politiche e anche editoriali, gli altri potentati targati Citrigno e Morroni, il primo si è dato da fare anche con la carta stampata, l'altro ha fatto strada di partito in partito. E ancora fascia tricolore, camice bianco, tutti gli abiti di Crinò, sindaco di Casignana, prima consigliere regionale e poi con un fratello ex senatore, un posto all'ospedale di Siderno e un centro radiologico alle sue direttive. E poi sempre in materia di politica e sanità, quell'intreccio tra Vibbo, Catanzaro e Crotone. Andiamo ancora avanti e se le trivelle fossero un'opportunità, la singolare visione del garantista in questo pezzo a firma di Teresa Munari, le regioni del Sud e dell'Adriatico preferiscono rinunciare a un'occasione senza domandarsi se il possibile ritorno economico dei gecimenti ritrovati possa affrancare i propri cittadini da una vita di stenti. Passiamo al quotidiano del Sud che dedica in primissimo piano ovviamente l'ampio spazio alla vicenda a Girasole, finisce l'incubo per la Girasole, 6 persone scaggionate, 5 condannate, ritenuto estraneo anche un ex assessore, l'ex sindaco di Isola e il marito assolti da accusi di voto di scambio e turbativa d'asta. E ancora ecco cosa stabilisce il verdetto dei giudici, condannato il boss Nicola Arena, ma per ipotesi residuali contestate, cade pure l'accusa di associazione mafiosa tra l'altro ed ecco Pasquale Arena è il figlio del boss, un inferno quell'ospedale psichiatrico ed eccola in aula Carolina Girasole con l'avvocato Bombardiere a sinistra e il marito. E ancora Oliverio vogliono intimidirmi, il gruppo Y lo ha querelato, vogliamo che sia rispettata la legge, dicono gli imprenditori della sanità, il presidente della regione ribadisce la linea sulla sanità appunto in Calabria e poi Barbanti, il parlamentare di alternativa libera ex grelino scura renda noti i criteri dei budget, una promessa scura l'aveva fatta, li renderò noti ma ancora si sta aspettando. E ancora il PD in silenzio sulla querela a Oliverio, nello scontro i parlamentari grelini attaccano Carbone e Aiello e aspettano la magistratura, il Movimento 5 Stelle affonda, Calabria colonizzata, distrutta la sanità pubblica e diviso gli utili. Poi Oliverio inaugura una nuova sede a Bruxelles. Una vicenda di cronaca che viene dalla mezza terme, luce su un caso di lupara bianca, si domanda Pasqualino Rettura, la sparizione avvenne sette mesi prima di un caso analogo che riguardò un fotografo, sarebbero stati trovati arresti umani che apparterebbero a un giovane scomparso. Ecco, da sinistra Antonio Dattilo in una foto alla trasmissione a chi l'ha visto, potrebbe essere lui il ragazzo scomparso di cui si sono ritrovati i resti. E poi all'imbadi, Università antimafia, querela chiusa. La presenza del sottosegretario Filippo Bubbico mette fine alle polemiche e la gestione dei locali del centro studi alla base della dietriba tra riferimenti e il comune. Poi il caso scarcerato De Stefano, Di Lello interroga il ministro, il parlamentare della commissione antimafia Marco Di Lello. E ancora carcere dura al boss Nicola Tripodi, accolta alla richiesta del PM della DDA Pierpaolo Bruni, il capo del sodelizio condannato a otto anni nell'ambito del processo denominato Libra. E ancora la vicenda che riguarda il premio mai consegnato al sindaco di Lampedusa Giussi Nicolini, una iniziativa promossa dall'UMPLI saltata a causa degli avvertimenti di Forza Nuova che poi ha inviato al sindaco di Lampedusa anche una coppa di pessimo gusto, quale traditrice della patria. Si inviti il sindaco di Lampedusa. Questo è l'appello che viene rivolto da Masi del PD che sollecita il primo cittadino di Lamezia Mascaro e critica il rinvio del premio. Forza Italia Nicolini in consiglio e Corbelli chiede scusa venga a Tarsia. Poi Cosenza, la manager dell'ASI interdetta dagli uffici, ma resta al suo posto. Si tratta di Stefania Fresca. Lo ha stabilito il riesame. La donna è indagata per truffa. Poi la Cassazione sulla frode sportiva è competente alla procura di Catanzaro. Calcio scommessa. L'inchiesta di Arti Soccer respinta all'istanza del presidente della Teramo. Poi a Castelvolturno spara in faccia una prostituta dopo una lite. Lei è grave. L'uomo di Diamante avrebbe voluto sposare la bella 25enne Moldava. Passiamo adesso invece alle cronache provinciali partendo da Catanzaro. Politeama, il cuore batte nel centro. Culture e spettacoli presentata alla stagione teatrale. La notte piccante a Catanzaro non si farà e questa è una brutta notizia. Il direttore Costa a Ristoratori e Operatori torniamo a essere una città accogliente. E poi ancora Lega Ambiente e il mare come fonte di bellezza. Oggi l'iniziativa alle 11 con la consegna di diversi premi. E poi Dardano, omaggio al Comune, a 10 anni dalla scomparsa. Lamezia Terme, imprenditore in libertà. Ed è un imprenditore molto noto. Si tratta di Francesco Perri, il patron del centro commerciale Due Mari. Era stato arrestato il 14 maggio scorso nell'ambito dell'operazione denominata Andromeda che aveva disarticolato una falange imprenditoriale del potente clan Lametino dei Giannazzo. E poi la denuncia impossibile per dializzati e disabili trovare il parcheggio a loro riservato. Il problema è stato segnalato più volte e questo purtroppo è un problema che non riguarda soltanto gli utenti dell'ospedale di Lamezia Terme. Ancora Crotone, partecipate, spiragli dalla regione. Un progetto per attribuire alla Crea, quindi all'azienda che si occupa del riciclaggio dei rifiuti, appunto la raccolta differenziata, duplice incontro sul futuro dei lavoratori e i servizi della società Acros e Soacro. A piedi pagina, Palazzo Iorno inizia la messa in sicurezza e sistemati i ponteggi. Sopra luogo dell'assessore Conterino continua a far discutere la caduta di un grosso pezzo di cornicione sul corso. Andiamo adesso invece alle cronache di Cosenza. Archiviazione per Piazza Bilotti. Lavori pubblici, erano dieci gli indagati fra tecnici comunali ed esponenti della ditta. Il CIP del Tribunale di Cosenza accoglie le richieste dei PM titolari delle indagini. Poi l'intervento, cambiare va bene, ma basta parlare di discontinuità. Il punto sulla situazione politica pitagorica, poi rifiuti, elevate finora 735 sanzioni, il bilancio dell'attività del nucleo di decoro urbano della Polizia Municipale. All'interno il magro salario di un pusher. Abbiamo visto 14 arresti per narcotraffico, solo 350 euro al mese per smerciare la droga. La doppia coppia padrona della vecchia città. Ed eccoli alcuni degli arrestati. Ieri mattina da parte della squadra mobile su disposizione dei magistrati di Cosenza e Catanzaro. E poi il terreno, un'ora fermi in galleria, pendolari, senza aria condizionata e senza linea telefonica. Il comitato scrive una lettera al Premier Renzi. Poi l'operazione murale si attira l'attenzione degli ultimi turisti. Questo avviene a Diamante e poi sempre a Diamante. Colpi di pistola contro una prostituta fermato dalla Polizia a Sala Consilina. Aveva il revolver dell'automobile e la storia del pensionato che si era invaguito dalla giovane 25enne Moldava. Sullo Ionio e i reperti dormono nei magazzini. Questa è una notizia che probabilmente meritava ancora più spazio. Polo Museale di Sibari, corsa contro il tempo per la riapertura. Entro fine anno, il completamento dei lavori per la valorizzazione del museo e poi la storia di Rex, pastore tedesco abbandonato e arregnato a nuova vita, Trebisacce salvato da ragazzi di cuore. E poi torna libero 52enne carietese che aveva una pena definitiva di 22 anni e 8 mesi. Gli avvocati sono riusciti a far ridurre la pena e a porre fine alla detenzione. Le pagine di Reggio Calabria. Immigranti, risorse e non peso. A quell'occhio con Don Nino Pangallo, direttore della Caritas di Ocesana, la proposta con gli stranieri. Diamo una nuova vita ai paesi montani spopolati. E ieri si è insediato il nuovo procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Gerardo Dominiani. Ieri mattina la cerimonia al CEDER. Poi funzionari e dirigenti. Ecco tutti i movimenti. Arrivano prestigiosi incarichi. Rogers è il nuovo capo della mobile di Taranto. La Tirrenica. Villa San Giovanni. Scuola. Basta soluzioni tampone. Carenze di Aule. La proposta del consigliere comunale Bellantone del PD. Poi l'analisi. Edifici con caratteristiche strutturali e architettoniche ormai obsolete. E ancora dalla grecanica a Condofuria. Coltella nel sonno il rivale in amore. Il delitto la notte scorsa nell'abitazione dove vivevano i tre indiani. L'omicida accusava la vittima di avere una relazione extraconiugale con la moglie. E poi dalla Locride. La minoranza boccia il sindaco. Forza Italia e Uniti per il futuro pretendono chiarimenti da Fuda. Siamo a Siderno ovviamente. Poi dal nuovo impianto di climatizzazione del polo funzionale alle strade sporche. La Piana. Agente. Salva. Bimbo in mare. Una bella storia. Alieto fine. Una storia alieto fine. Questa rischia di annegare alla Tonnara. Eroico poliziotto fuori servizio. Protagonista. I genitori ringraziano il dirigente. L'unico a intervenire. Un angelo. Bravo questo poliziotto. Come tutti i poliziotti onesti che lavorano per la nostra sicurezza. E poi a Vibbo Valencia. Trattativa negoziata sulla gestione dei rifiuti. Il 30 settembre. Ultimo giorno di lavoro per la progetto ambiente. L'amministrazione predispone una nuova determina. In carico per soli otto mesi. E poi i sindacati invitano i sindaci del Vibbonese a consegnare alle fasce l'iniziativa promossa a Cigelle Cislewil per tentare di scongiurare il taglio della prefettura annunciato alla riorganizzazione del Viminale. E poi il processo Libra. Eccolo il boss Nicola Tripodi che va al carcere duro. Il ministero ha accordato la richiesta del PM della DDA per Paolo Bruni. Condannato in primo grado a otto anni. E capo dell'omonimo clan imprenditoriale. Uno sguardo anche alle notizie relative allo sport. Lo sport ovviamente calabrese. Crotone devastante. Bari KO. 4 a 1 per i pitagorici che continuano la loro striscia positiva. Una grande vittoria del gruppo contro una formazione di spessore ma assente. Splendido poker De Rosso Blu con Tunkara Stojan Salzano. E Budimir. Iuric frena. Una buona gara ma stiamo con i piedi per terra. Il tecnico. Ho visto anche alcuni errori. Ma miglioreremo. E ancora il Catanzaro. Ci risolleveremo. Il DG giallorosso Carmine Donnarumma parla a 360 gradi. L'apporto del presidente Cosentino non mancherà. Lo faremo con l'aiuto dei tifosi. Cioè la rinascita. D'Urso fa parte del progetto. E il Cosenza invece. La nostra media è buona. Criaco. Blondette. Reimondi con la febbre. Caccetta. Fermo per il mal di schiena. Arrigoni. Quattro punti in due gari. Non sono da buttare. Ammessina. Daremo tutto. La regina. Blitz in Campania. Tanti gli ostacoli da superare per il tecnico Amaranto Cozza. Domenica a Cava dei Terreni. Serve una vittoria per riportare serenità. Sempre dalla Serie D. Ecco il punto sulla Vigor. Ultimo atto del ricorso. Comunque vada da domani. Il direttore sportivo Danilo Pagni dovrà costruire la squadra. Oggi alle 17. L'udienza al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Un rapido sguardo anche ai campionati minori. Ecco lo Scalea e il Sambiase che cercano gloria anche in Coppa Italia di Lettanti. Si parla ovviamente di eccellenza e promozione. E poi a piedi pagina questo è il tecnico del Sambiase Claudio Morelli che oggi sarà di scena a Soriano. E poi anche la prima categoria sul quotidiano. Apicella, Sembra Ronaldo, Jozze Mascheri scatenati, Viola colora la vittoria della gioiesi, Miceli, Timbra due volte e poi c'è Boniek. Questo è l'interessante punto anche sul campionato di prima categoria realizzato da Roberto Severino. E con questo è tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi rinnovo, l'invito a seguirci anche nel Tg delle 13 e 45. E a tutti voi un felice proseguimento di giornata con la C. Amici di La C, una giornata di mercoledì che ricorda forse un po' la fine dell'estate, nel senso che non sono previsti fenomeni al meridione d'Italia, però la cartina già dall'analisi 5.000 metri possiamo ben vedere la colorazione gialla che invade il Mediterraneo centrale e indicare che ormai le cupole anticicloniche sono lontane dal meridione d'Italia, dalla Calabria. A 1.500 metri d'altezza vediamo il giallo che indica temperature medie, sono diminuite le temperature anche a 1.500 metri d'altezza, pensate di 10 gradi rispetto alla settimana trascorsa. Ancora insiste in maniera blanda, direi non con la forza delle settimane trascorse, l'anticiclone subtropicale, i cui effetti però sono prevalentemente concentrati sulla penisola balcanica. Sull'Italia quindi inizia il periodo tonale in linea peraltro col calendario con calo dei valori termici e fenomeni che per la giornata di mercoledì passiamo allo sguardo d'insieme sulla nostra penisola, si manifesteranno per lo più concentrati sul settentrione d'Italia, relegando invece il centro e il sud d'Italia a una giornata di attesa con qualche nube, diciamo ai cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. Lo zoom sull'Italia del nord ci fa vedere delle nubi di tipo cumuliformi che indicano dei fenomeni che dal nord ovest si tenderanno a traslare il corso della giornata di mercoledì sul nord est intensificando i loro effetti con precipitazione di stampa temporalesca localmente intensa sul Veneto ed Emilia Romagna e tutta l'Alta Adriatico. Centro Italia con giornata prevalentemente serena, in particolare sulla fascia tirenica, qualche nube in più sulla costa adriatica con fenomeni che compariranno in serata. In meridione d'Italia invece in una giornata tipicamente di fine estate con delle nubi per lo più concentrate a ridosso dei rilievi dell'Altopiano Silano, delle serre, dell'Aspromonti, in un contesto comunque di assenza di fenomeni con ampie fasi soleggiate al mattino sul settore tirenico e sul litorale della Calabria Ioni che ha nuvolamenti che nel corso della giornata renderanno la nuvolosità più compatta in entroterra e sui settori più interni. Non sono previsti fenomeni, temperature assai gradevoli con massime che si attesteranno sui 25-26 gradi, minime sui 17-18 gradi senza una grande escursione termica in attesa di un peggioramento che giungerà al meridione nella giornata di giovedì che sarà una giornata che vedrà dei fenomeni comparire già dalla mattina sulla fascia tirenica e gli stessi poi nel corso della giornata di giovedì tenderanno, localmente anche di natura temporalesca, tenderanno a traslare da ovest verso est interessando il settore ionico, in particolare la Calabria centro-settentrionale. E' una situazione questa che diciamo di variabilità, di stabilità pomeridiana che tenderà a permanere da qui fino all'intera seconda parte di settimana e durerà credo fino a sabato o domenico in un contesto che sarà dal sapore tipicamente autunnale. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Don Notaro per gli amici di La C. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie.